Questo sento di chiedere questa sera a chi ha la responsabilità di decidere. Uno sguardo diverso, una politica diversa, che tenga in conto i timori della nostra gente e tutte le grandi risorse lavorative, turistiche, paesaggistiche, culturali e storiche che ruotano intorno al nostro porto. Più che un messaggio, una preghiera letteralmente indirizzata alla politica e ai politici invitati a non cedere alle logiche spesso ricattatorie del profitto e del mercato. Stava parlando del porto di Brindisi il Vescovo Giovanni Intini, stava parlando al suo greggio Monsignore, stava parlando, immaginiamo, del progetto Edison mai nominato e di quella torcia che spaventa tutti, se non il Regno dei Cieli, quantomeno la locale di Ocesi. Non cedere alle logiche spesso ricattatorie del profitto e del mercato non è un gesto di eroismo, ma un amore civico per la propria città. Dialogo, trasparenza e informazione nei processi decisionali sono il vero investimento che fa sentire i cittadini responsabili della loro casa comune. Intervenire nel bel mezzo della festa patronale per cristallizzare un pensiero così chiaro rappresenta un punto di rottura tutt'altro che canonico nella storia del capoluogo, una pressa di posizione talmente forte che è impossibile ignorare. Il futuro di un nuovo sviluppo sostenibile è nelle nostre mani. Perché non investire e fare di Brindisi un centro di tecnologie rinnovabili, di tecnologie innovative, per guardare al futuro con intelligenza e permettere a tanti giovani di potersi realizzare sul proprio territorio? Intini, la chiesa, sembrano avere le idee chiare. A Brindisi serve una svolta green tra innovazione, trasparenza e progettualità. Di certo un po' di fede in quelle potenzialità mai sfruttate. Così parlo Monsignore, chissà che lassù qualcuno non la pensi come lui.